Siamo all'interno dello Stand Porada insieme a Bruno Allievi, titolare dell'azienda. Signora Allievi, inizia l'anno con In Cologne e adesso Maison Objet, due manifestazioni importantissime alle quali voi siete presenti. Cosa rappresentano per voi queste due manifestazioni? Siamo abituati a partire sempre con Cologne e Parigi e poi con Milano. I primi quattro mesi dell'anno per noi sono proprio il momento più importante, partendo bene e poi dopo l'anno va in discesa. Cologne e Parigi non sono importantissime come Milano, però ci permettono di incontrare clienti che a Milano dobbiamo riservare loro solo pochi minuti. Invece in queste occasioni Mauro e Alessandro hanno la possibilità di parlare più approfonditamente con clienti che arrivano da lontano e che meritano di essere ascoltati bene. Per cui dei mercati importanti per voi? Sì, importanti perché abbiamo visto anche adesso Parigi è aperto oggi, non sappiamo ancora, ma a Cologne rispetto agli altri anni passati mi sembra che stia sempre tutti gli anni migliorando un pochettino l'affluenza e anche se alcuni mercati come la Russia non si vede molto, però abbiamo visto parecchi che arrivano dall'Australia, dall'Africa, dalle Americhe, per cui è molto importante. Una produzione che si basa principalmente su una lavorazione del legno, produzione che continua ad ampliarsi? Sì, noi insistiamo sulla produzione del legno per la nostra caratteristica, la nostra mano d'opera è abituata a fare questo tipo di lavoro per cui è più difficile per gli altri poi seguirci su questa strada. Vediamo alcuni pezzi che richiedono molto materiale, dobbiamo addirittura avere una stagionatura naturale di un anno per il legname, per cui non è facile improvvisarsi in una produzione del genere. Grazie